Si prefigge di andare nella direzione di colmare un'importante lacuna il disegno di legge firmato dal deputato regionale saccenza Michele Catanzaro e che mira a fornire strumenti normativi che al momento sono inesistenti in favore del settore dell'agricoltura biologica. La Sicilia infatti è l'unica regione italiana che non dispone ancora di una legge specifica, eppure l'Italia è il paese dell'Unione che più di ogni altro vantano importanti incidenze in materia di coltivazioni biologiche che godono di un interesse sostanziale da parte di una sempre più ampia fascia di consumatori. In tutto questo mio lavoro comunque c'è un connubio, una sinergia, perché io parlo di ambiente, parlo di agricoltura, parlo di giovani, diciamo che è tutto un connubio. Oggi c'è quello dell'agricoltura biologica, ho voluto proprio presentare questo disegno di legge che già comunque è in discussione, addirittura d'arrivo in commissione, speriamo che abbia celerità, perché ritengo che la Sicilia è una delle regioni con più alto territorio a produzione di agricoltura biologica e con più produttori che svolgono l'agricoltura biologica. E ancora di nicchia. Però di fatto la Sicilia è l'unica regione forse in Italia a non essere dotata di un disegno di legge di agricoltura biologica. Proprio la scorsa settimana sono stato ospite di una bella manifestazione organizzata a Sambuca di Bioagroshop, dove ci sono molte aziende che sviluppano il biologico, che sono messi tutti insieme, e che poi c'è quel connubio tra l'aspetto biologico e il turismo. Questa è una cosa fondamentale per cui voglio promuovere il territorio. Quindi su tutti gli argomenti che noi abbiamo parlato, comunque sono argomenti che sono concatenati l'uno con l'altro e che poi di fatto tornano nello sviluppo del nostro territorio, della nostra provincia. Il primo gennaio scorso oltretutto è entrato in vigore anche un nuovo regolamento europeo in favore proprio della necessità di dover assicurare equità tra gli agricoltori biologici. Secondo Michele Catanzaro questo settore può rappresentare un rilancio dell'economia siciliana attraverso lo sviluppo dell'agricoltura e del consumo di prodotti siciliani, rigenerando nello stesso tempo l'ambiente e migliorando la salute delle persone attraverso un potenziamento della biodiversità. Tra le misure più significative contenute nel disegno di legge firmato da Michele Catanzaro c'è la tutela del settore, ma anche un miglioramento ambientale attraverso il sostegno e la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore, l'impiego di prodotti ottenuti col metodo biologico da parte degli enti pubblici, delle istituzioni nelle attività di ristorazione, favorire l'imprenditoria giovanile e consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni confiscati alla criminalità e alla mafia. Prevista anche l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico. Inoltre l'autorità competente per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico. Previsto infine un piano d'azione regionale che riguarderà anche la stessa acquacoltura biologica. Previsti infine aiuti per quelle imprese agricole e agroalimentari che decidono di convertirsi al metodo biologico sostenendo anche la costituzione di forme associative, incentivando il consumo dei prodotti biologici coltivati nell'ambito della regione siciliana, monitorando l'andamento del settore, migliorando il sistema di controllo e certificazione, stimolando gli enti e le istituzioni del settore pubblico allargato affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde. Tra gli altri punti più significativi della proposta di Catanzaro anche il sostegno alle menze pubbliche che scelgono prodotti coltivati in maniera biologica e facilitazione economica e nei bandi degli avvisi pubblici corsie preferenziali di selezione per le aziende partecipanti.